all'intero cenacolo cerchio e seno una delle innumerevoli maschere materializzate come apporti presso questo cenacolo in più di 40 anni di attività gli apporti sono oggetti donati ad una persona in particolare o all'intero cenacolo difficilmente la guida fisica che l'entità che esegue la materializzazione informa sul luogo da dove proviene l'oggetto e il motivo per cui è stato apportato